2000 like e facciamo la challenge con i cibi disgustosi Devo controllare se ci vedi Ok, non ci vedi Hello, hola, ole, why are you? Benvenuti in questo nuovo video Siamo Kikko E oggi facciamo una challenge insieme La challenge di indovinare le bevande Vabbè, facciamo questa challenge Indovina la bibita Ho preso 14 bibite tutte diverse La Fanta l'ho presa a zero Perché già si è un pochino di zucchero Quindi ha giocato almeno la Fanta a zero No, è vero, non ci si fa normale Abbiamo preso sia la Pepsi Sia la Coca-Cola Sabrina Ma spalcavo un picchino Ma che ti ha ricotto nel mano? Dato che ci sono sia la Coca-Cola e sia la Pepsi Sarà difficilissimo indovinare Poi abbiamo sia il Fusti al limone Che il tè al limone L'estatè al limone Vabbè, questi hanno gusti abbastanza diversi come tè Quindi se sei indovinato E c'è una parte di tè Che è una parte di me Che non andrà via in un attimo Poi abbiamo la Schweppstonica Che non penso Sabina abbia massaggiato Ma nemmeno io Se non nei drink E la Gatorade Magari la pubblicità Ma perché te l'hai masato? Ma che fido tropea? Abbiamo Sant'Aul Sant'Aul Tu alla mela E tu all'ananas Mela e ananas Questi sono abbastanza riconoscibili Ovviamente Ropka ma miscat Vinto gusto Non lo sapiamo più Quella che ci stiamo bovendo Poi abbiamo la Lemon Soda E l'Aloe Vera Questo non ti piace a te Non ricordo No ragazzi È gelatinato È gelatinato Questa vabbè ragazzi Fa abbastanza Aloe Vera Al frutto della passione Con polpa in pezzi A Sabina non piace Non so a me Non l'ho mai provata Io l'ho vista L'ho presa Guarda c'è scritto Jungle Vibes Le vibes della giungla Che io sono un lion Eh io sono Serbia Poi ci abbiamo Sprite e Fanta E Fanta Già anticipata Fanta zero zuccheri Perché ci ha mai rimanere in genere Che è di sconu' Mercoledì Adams Oggi è sabato Poi abbiamo Estate a pesca E frutti rossi Uva rossa Lampone Brangolo E il Sambuco La rolla più buona del mondo E pure l'estate E' più buona del mondo Eh sicuramente non assaggerai Chissà chi li Che si beve una coppa a Fortnite Mangia Si beve Abbiamo i due bicchieri Ora dobbiamo fare il tocco A chi inizia Facciamo cin cin Dobbiamo fare Facciamo prima cin 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 Senza niente A ind Sabe come fai? Ciro Salto carta Por bici 1 e 0 per te Salto carta Por bici 1 a 1 Salto carta Por bici 2 a 1 Inizi tu a versarmi la bevanda Checco è pronto Checco è pronto per il concerto di Geli Vediamo se ci vedi Che amare Sei Bravo Come è bravo? Oddio Sento lui Ok Me la devi dare Ok No E' molto buona Subito un bonus In che senso Tieni Ok Che stai versando? Eeeh Bla 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 Che cos'è? Francesco Non è una bomba Allora se è frizzante può essere qualcosa tra Sprite Fanta Coca Cola Pepsi Lemon soda E tonico E deve essere Coca Cola Cioè Non devi toccare le altre bibite Ma che senso ha il gioco? Altrimenti Besta Quanta cosa stai versando? Vai Francesco Sicuro che non l'hai riempito troppo? No Vai Ma che cos'è questo rumore? Bevi Aspetta Mancherei Vai E tu vuoi bermi? Come vai? Non mi fai bene Vai Vado Tre Dov'è? Una E' molto buona E che cos'è? Pepsi Oh hai indovinato E' Pepsi Come è fatta? Non diceva Coca Cola Non lo so Quindi siamo uno a uno Ah ma perè? Pesta qui Tappati le orecce Ma perché mangia da pericce? Perché sta dicendo una cosa che non si fanno Allora ragazzi Lui odia No 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 Il vetro Mamma Edizione per mandarci un nuovo bicchiere di vetro Perché se ho fornuto tutto quanto è rimasto solo uno Vai Ragazzi Adapati le orecchie Vai Versiamo Mi sento una strega maglia Sabrina Ma questa è una strega maglia Ma questa è una strega maglia Non ci posso credere Ragazzi è gelatinato Schifo Ma come è gelatinato? Oh no Sabina L'aloe vera Già l'ho messo No Non è l'aloe vera Ragazzi Come sento un giapponese Baby È aspro Ma Ma perché è così brutto? Non lo so Cioè sembra lemon soda Lo è? Sì mi butto Lemon soda No È lemon soda Cioè diciamo che può essere Comunque è bruttissimo Siamo due a uno per me Vai Vai No no Cosa no? Ah sì sì Oh no Ti lutto un bicchiere vita Ti lutto gomito Oggi stai facendo solo ai Le mani Tutto comincia sempre con le mani Buono Eh ma non mi dice che sia buono Mi dice che è Potrebbe essere Allora Il 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 Cosa Allora aspetta Quello là C'è tipo Un Una cosa Ehm Sabina ma non so un ghiio C'è tipo Il sauce Delle state al limone Eh ma devi dire no La cosa appenzotta Non la so il nome Non è appenzotta E' più buono anzi costa di più Eh vabbè Quello là senza zuccheri al limone Non è senza zuccheri Vabbè quello là Hai sbagliato No quello là vicino al limone Eh ma non c'entra Devi dire il nome No il nome Non la so La cellule ci si chiama Indovina la bibita No indovina il coso al limone Ma che re Eh aspetta No il coso al limone E Sabina mi prendi un attimo il coso Di là che sta sulla schifania Basta Che cos'è Giustizia Vedi È sbagliato È sbagliato Pur i citrici Perché la lemon So della schuab Si era sbagliato Ok allora bene Quindi Due a uno per me Allora ti farò perdere Ma mo C'è immagino Perché se è pur nato Bevi Ma stai usando per camuffare Tutto il mio sapore Lo voglio assaggiare Ma sabi ma è possibile che assaggio Prima tu tutte le bibite Perché mi metà Buonissimo Ragazzi se l'ha indovina mia Tranquillo Questo è il succoso ai frutti rossi No Non è questo Ok Sì è questo No Sì è stato fanta Ma l'hai iscritto Dove Se siete arrivati fino a questo punto del video Iscrivetevi al canale se non siete iscritti E sotto nei commenti Hashtag Sabrina arrabbiata Questa volta indovino E poi ti faccio vedere No Signor sommelier Tenga Buon appetito Acqua tonica Brava Ma non è acqua tonica E che cos'è? Eh? Che cos'è? Shrepsion Tonica Come? Shrepsion Shrepsion No Che era Shrepsion Shreps Ah Quindi che cos'è? Shreps tonica Esatto Sì È vero È brutto O siamo 3 a 2 per me Guardate cosa ho messo Shrepsion Ah 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 Allora questo è un succo Io Eh Questo è un succo E ne avevamo presi due Ananas e Mila Basta Non puoi più bere Ma come non posso più bere? No Secondo me questo è a mela Sì Eh ma perché è giallo? Scuso In oggi mai sarà mela gialla Stiamo a 2 per la signorina E 4 per me Oh So vincendo Ma che cazzo Vai Vai Che hai messo? Mi chiedo di Posso toccare le lambe? No Sì 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 Si può toccare La faccia toccare per te Ok vai Puoi toccare Solo per questo lambe Puoi toccare Guarda Stai a casa Stai a più Stai a più Che cos'è? Succo Ananas Brava Lo so perché non beco sempre Ma ne prende 10 di stile Ma io te ci hai fatto toccare Le doverò Lo so me ne ho accorta Io penso che la l'altera all'inizio E allora anche io Ti faccio toccare No ma non voglio toccare 4 per 3 E 3 4 per 3 4 per 3 12 4 per 3 E 3 per me 4 a 3 No Sì Ragazzi Per l'allegatamento Ambassa Non vedo niente Caro Pagliss Ambassa Tieni Tieni Cazza qua Aspetta Non sto capendo Ti do l'inizio No è sprite Sbagliato Era gathered Non è proprio uguale 5 a 3 Ma voglio un gel Terrorista Coppa protagonista Mi sta No No Francesco Che cos'è? Che cos'è? Posso bere? Sì Ma tanto ti piace È una cosa che ti piace Ghedoletta Ghedoletta Brava Quanto stiamo? 4 a 5 Ok 5 a 4 Vai Oh sì Oh sì Perché c'è ancora Non lo devo versare Vai Memi Ma chi hai fatto la pozione? Memi Sabrina Sabrina Ma questo ha i tuoi gusti Sabi questa è stata a limone e state a pesca insieme No Allora Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? E con la cosa? Ma la cosa non ci sta Si ci sta La cosa non ci sta No sappiamo Non puoi fare questa cosa Sì Non puoi dovinare la bibica Non mi scuglio Vai Questa è la Fanta Zero zuccheri Bravo Sai perché ti ho messo la Fanta? Perché questa era rimasta Perché sono fantastica Dato che sono tre facilissime Tu indovinerai subito Tato ho vinto io Ma perché? Due cristalli Sei a quattro Sei a quattro E no Io ho vinto Sei pronta? No No Francesco Vado Sei pronta? Sì Passiamo Aspetta Aspetta L'odore è molto brutto Però sono tre cose buone Eh e quindi Francesco Francesco che hai fatto? No Francesco allora Però Io so cosa hai messo E' stato No 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 Sì ho messo solo Allo E' stato Ok Pronta? Questa a te è una cosa Che piace tantissimo Ok Sì Sì Stavolta sono serio E' stato Questa è stata nella pesca dopo L'aloe vera Sono rimaste coca cola E' state al limone Se io indovino una delle due Ho vinto Perché siamo sei a cinque Se io indovino una delle due Vado sette a cinque In che senso Come in che senso Beh è matematico Allora aspetta Io ti verso una delle due Eh Se io indovino vinto Ok Vai Tanti indovino Acqua E signore e signori Vinco Perché con un sette a cinque Vi dico che questo E' estate Al limone E' la buona cola Non credo Sabrina Ma che sei affobattissimo Dall'estate Ma che hai fatto A penitenza Sabrina Sabrina C'è un pezzo di aloe vera Ma che c***o